Napoli in prima linea per l'accoglienza ai migranti richiedenti asilo. Il Viminale ha individuato nel capologo campano due strutture utili per l'assegnazione di 5.000 posti di accoglienza. Si tratta dell'ex arsenale di via Campegna e della caserma Cesare Battisti di Bagnoli, ormai in completo abbandono e disuso e che dovrebbero essere dunque rimesse a nuovo per un più nobile fine. Al momento nell'elenco delle strutture emergenziali già attive figurano soltanto ex caserne sparse in tutta Italia nell'ambito di un investimento complessivo di 40 milioni di euro per la ristrutturazione e la predisposizione degli edifici della difesa economia e demanio.